e salve gamers io sono maricela e oggi siamo tornati in assassin creed odyssey con la nostra cassandra e dobbiamo andare con erodoto alla termopoli e poi dovremo andare ad atene dobbiamo praticamente distruggere tutti i membri della setta e ho visto che serve tipo il livello 50 io sono livello 16 ma così all'improvviso livello 50 e io che pensavo di averla livellata comunque ci sta ci sta ci sarà molto lavoro da fare anche da sola insomma dovrò giocare tantissimo penso che i membri della setta siccome sono tanti aspettate che devo dare su o giù sto pensando se devo entrare qua oppure sì sì no è di qua di qua penso comunque stavo dicendo sì penso che molti membri della setta li ucciderò io per conto mio però prima dovrò livellarla quindi insomma vediamo vediamo un po come procede la storia uh la in fondo mannaggia erodoto allora andiamo aspettate potrei tuffarmi però ora che ci penso spero che non si ammazzi però ci provo ci provo ragazzi ci provo che di te vado che salto erodoto mi sono tuffata per te pare non sia possibile camminare qui senza sporcarsi i piedi di sangue molto bene andiamo alla tele se chiudi gli occhi puoi quasi sentirle le loro grida di guerra prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse le loro voci si spensero quel giorno ma la loro storia verrà narrata per l'eternità non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani cosa in mente erodoto la battaglia delle termopili e che già nei nostri cuori ma essere qui significa sentirla sentirla nelle ossa qui ci sono solo fantasmi i miei pensieri sono per i vivi prendi la tua lancia la mia lancia perché devo sapere una cosa a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voglio vedere dov'è di preciso, perché dobbiamo navigare come dei pazzi, praticamente. Ragazzi io ovviamente questi pezzi ve li taglio, perché penso che siano belli lunghi. Perché è importante? Leonida era suo padre. Incredibile! E ti dà delle visioni? Forse cerca di guidarti e dimostrarti una via. Non solo, mi aiuta in battaglia. Che motivo? Io non so chi lo descriva. Come se conoscessi in anticipo le mosse del mio avversario, appena prima che le eseguano. Affascinante. E' tanto risolvere. E' un'altra velocità. Ecco, credo di avervi tenuto la parte della lancia di Leonida, che mi sembrava interessante. E intanto siamo anche arrivati. Perfetto, formeggiamo. Ciao! Allora, intanto qua c'è qualcosa, solo per vedere. Ah sì, un po' di missioni secondarie. Anzi, le prendo tutte, anche se questa sarebbe un po' troppo difficile. Ma va bene. Oppala! E andiamo. Ok. Obiettivo trovato. Andiamo. Dobbiamo trovare questa struttura misteriosa ed entrare al suo interno. Tanto qui vedo dei lupi. Vediamo se scopriamo qualcosa anche di più sulla lancia. Anche se è molto molto interessante. Devo dire come cosa. Perché c'è qualcosa qua che dobbiamo scoprire. Un ingresso segreto. E di certo non è una caverna normale. Come faccio a entrare? Chissà se... C'è là! Fatti vedere! L'esitazione altro non fa che portare... Alla tomba. Lo so, madre. Tu stai crescendo. E la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so. Ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma... Ora sei pronta. Ho sentito qualcosa! Oh! Questa lancia è magica! Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorrente è in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi. Pensa a Leonida. Aveva un grande coraggio. E ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma... Non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei una guerriera. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. La mia domanda è la mia domanda. Lo so. Per gli dèi Che ha costumito tutto questo? Molto molto interessante Devo dire Veramente Allora Andiamo avanti Questa è veramente la parte della storia Più interessante secondo me E chissà come sarà più avanti Fino adesso è sicuramente la più interessante Andiamo Intanto lei non corre Corre pianino Pianino Devo esplorare Esplora la grotta Creazione attivata Sincronizzazione Ritransmissione cronicità Contatto Deimos La forgia Lo sapevo Ti ho lasciato troppo nell'animus I tuoi parametri vitali sono critici Non capisci Ella conferma che Cassandra non solo possedeva tecnologia ISU Ma poteva anche potenziarla Immagina la potenza di quel bastone Lo ammetto Sarebbe una scoperta incredibile Ma sono un medico E devo verificare che tu stia bene Ora riposati un po' prima di tornare da Cassandra Non dirmi quello che devo fare Hai ragione No facciamo una pausa dai Ma solo perché ho del lavoro da fare qui fuori Ritrova la lucidità Ci manca solo una leader con i sintomi dell'effetto osmosi Che si mette a infilzarci con la lancia Perché pensa che siamo i titi o traci Non lo farò Anche se i traci sono simpatici Siamo una squadra Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare Lo so Ieri Kiyoshi ha reso sicuro l'attico E tiene tutto sotto controllo Alanna è disponibile per fare ricerche storiche E io sono qui per te se ti senti confusa dall'animus La mia psicologa Dottoressa come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone Il bastone è importante Ma i templari e gli assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia mi pare Stavolta è diverso Se quello che ho visto in Egitto è vero Questo bastone non controlla solo la mente Ma anche la materia E il tempo Immagina riscrivere le leggi dell'universo La lancia che hai trovato è qui E non fa proprio nulla La lancia è legata a una stirpe Leonida, Cassandra e Deimos Cioè Alexios Erano intimamente connessi a essa Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i templari Non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'abstergo Che io ho modificato in ogni minima parte È un prototipo di console Animus variante Brahman Con capacità input-output potenziate al massimo Ultra portatile Con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme Vado a farmi un giro Peccato non avere più accesso alla palestra dell'abstergo L'iscrizione costa troppo Ma questa tipa non mi ha mai fatto simpatia Non so perché questa protagonista Diciamo fuori dall'Animus Così non saprei perché Mi sembra troppo Un po' strafottente Cioè ha anche ragione per alcune cose però Scusate, stavo guardando il coniglietto Però, boh Le aquile non sono male Ma una scimietta sarebbe il massimo Ah, su questo sono d'accordo invece Il centro dell'universo 400 avanti Cristo Diamo giusto un'occhiata in giro Eh, i file Che la scorsa volta erano tantissimi Solo che non ho portato, diciamo, il video di Origin Ma mi ricordo che erano tantissimi Beh, avrò modo di leggerli immagino E-mail Audio Prossimo incarico Vediamo un attimo Però devo dire che anche la scorsa volta Non ho letto tutto Neanche per conto mio C'è solo quest'audio Sentiamolo Il libro perduto di Rodoto La lancia di Leonida Se non lavorassi per gli assassini Non ci crederei Non so ancora se ci credo Ma con un po' di fortune Di ricerche Avremo la scoperta archeologica Del secolo O meglio L'avremmo se potessimo pubblicarla Molto interessante Guardiamo un po' qui Affascinante Laila Riesci a credere che stiamo incontrando Rodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Cassandra Corrisponde alle tue ricerche Ho impostato l'animus Per usare il libro come riferimento Quel libro? È un'opera perduta di Erodoto Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia Le figure storiche corrispondono Cleone Pericle L'opportunità di vedere il passato È il motivo per cui mi sono unita agli assassini In più lo farebbero per giustizia O per saltare da un tetto all'altro Ma sì Anche la storia è interessante Adoro la storia Fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese Era un marinaio e un avventuriero Io porto avanti la tradizione di famiglia Mi sento così fortunata La fortuna la si crea Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto Ma non so molto di lui È un genio Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse Vederlo nel suo mondo Camminare nella polis E... scusami È praticamente il mio eroe Ognuno ha i propri eroi Ti lascio al tuo lavoro Se ti serve qualcosa Fammi sapere Bello Mi è piaciuto un po' questo dialogo Queste interazioni Così Adesso magari torniamo nell'animus Però È tutto molto curato Molto carino Bene Nessun pericolo in vista Lavorare ancora insieme è bello I nostri metodi sono compatibili Ce l'hai ancora con me dall'ultimo incontro con l'abstergo Mi dispiace Non sapevo che quelle colline in Quebec fossero così ripide Ma ehi I tuoi riflessi da Yakuza ci hanno salvato E scusa Ex Yakuza Siamo tutti vivi e le ferite sono guarite È tutto ciò che conta Certo Torno all'animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto Per trovare il bastone Ma ci sono un sacco di possibilità Un sacco di scelte Non è facile prendere quelle giuste Tu eri nella confraternita giapponese Cosa faresti? Farei un passo alla volta Osserverai prima di agire Oppure ucciderei tutti E li perquisirei in cerca di risposte La scelta è tua Grazie per l'aiuto prezioso, Kiyoshi Ti lascio al tuo lavoro Farò rapporto se l'abstergo si fa viva Andiamo, andiamo Ok, penso che ci siamo riposati abbastanza Qui c'è altro No Ok Qui Ok Direi di andare Scusami, ti ho colpita Sei sicura di voler rientrare nell'animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po' Sì, andiamo Sono pronta a tornare da Cassandra Ok Sarò sempre qui con te Diciamo che la storia si sta un po' definendo Finalmente Perché all'inizio sembrava una cosa un po' sconclusionata Non si capiva bene dove andava a parare Adesso invece è molto, molto, molto più chiara Ora la mia lancia è più forte La setta non ha speranza Ok, dobbiamo tornare da Erodoto La lancia di Leonida Può potenziare la lancia? Ok Ci siamo Erodoto Torniamo da te Spero di non dovermi fare altri 6.000 km Dobbiamo parlare Ah, non promette bene Salve Alexius Questa non me l'aspettavo, devo dire Non è stato difficile trovarti Sei venuto da solo Stai bene Alexius Sei vivo Non mi toccare Dai, fratellino Devi raccontarmi tutto Che ti è successo? Non devo raccontarti niente Io non ti conosco Beh, io conosco te Non fa niente Ci sono cose più importanti di cui parlare Hai ragione Come la trovata del manufatto Hai attirato la mia attenzione Se è quello che volevi Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità Siamo fratelli E siamo sopravvissuti a Sparta Sì Ha mostrato la verità E ha confermato quello che già sapevo Che mi hai buttato giù Da una montagna Ma no, in realtà Abbiamo tentato di salvarlo Ti sbagli Non è quello che sei Gli dei Non si inchinano alla setta Perché prendi ordini dalla setta? Ma mi hai ascoltato Sono io a guidarle No, in realtà ti prendono in giro, caro Aiutami a trovare nostra madre Non mi interessano le rimpatriate Voglio solo sapere cosa credi di fare Quello che fa la tua setta Cerco Mirine Nostra madre Non cercano lei I tuoi amici non la pensano così Lei è il loro prossimo bersaglio Se mai la cercassero Sarebbe per ucciderla Ma se non sai dove si trova Significa che ha abbandonato anche te Davvero triste È pur sempre nostra madre Ma se siamo stati abbandonati Siamo sopravvissuti Possiamo riportare le cose come erano Dobbiamo solo trovarla Alla setta non importa Mi senti mentalismi Ho la famiglia Il suo unico scopo È il controllo Se cercano tutti noi Hanno una persona in meno da trovare Ho ucciso Nicolau Ma guardate Fai tanto la moralista Ma poi Sei esattamente come me Non mi importa di ciò che pensi Troverò Mirine Fa la cosa giusta Vieni con me Cosa? La cercheremmo Insieme Potresti aiutarmi? Oh Credi che l'amicizia sia la risposta Io e te come due bimbi smarriti In cerca della mamma Sei così debole Non è debolezza Non chiamarmi debole No Rimaniamo comunque tranquilli Irresponsabilità Non debolezza Non abbandonerò la mia famiglia Per vendicarmi Responsabilità Non farmi ridere La setta ha un piano E non si lascerà ostacolare Da gente come te Eliminerò la setta Vediamo che piania Chiediamo un po' tutto La setta ha lasciato in vita Mirine e Nicolao Perché ucciderli ora? Perché tu vivi Sei tu la causa La setta è potente Ai suoi membri sono mortali Io ho il sangue degli dei Perciò pensano che lo abbia anche tu Ma scopriranno quanto si sbagliano Dare la caccia a tua madre non gli basta Non siamo rapitori Siamo politici Chi non sta con noi è contro di noi E pagherà per i suoi errori Come me Come te Ho sentito che vuoi andare ad Atene Quando sarai là Dì a Pericle E alla sua feccia elitista Che i prossimi sono loro Darò la caccia alla setta Sappilo Hai visto quanti siamo Hai visto di cosa siamo capace E credi ancora di avere una possibilità Sfidami A quanto pare avere fegate è una cosa di famiglia Dici che abbiamo lo stesso sangue Vediamo che cosa sai fare Non prima di averti fatto del male Sei pur sempre mio fratello Oppure vado Ma secondo me lui è recuperabile Sì Secondo me sì Andiamo 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 Interessante la cosa Direi di scendere E' un po' arrabbiatino il fratellino Però Dai Non è male Non è male Secondo me è reversibile Vediamo un po' Può diventare nostro amigos Andiamo Torniamo sulla nave E parliamo con Erodot Anche perché abbiamo scoperto di tutto e di più Veramente sta succedendo di tutto e di più Allora La leggenda era vera E' stato magnifico Che ti è successo? E la tua lancia? Calma Ti ero adoto La mia lancia è più forte ora Lo sento Avevi ragione C'era una specie di manufatto Mi ha mostrato una visione Di me E mia madre Allora L'antica civilizzazione è reale Cassandra Non hai idea del potere che possiedi Ed è tutto racchiuso Nella lancia di Leonida Non è tutto Deimos mi ha seguita Mi ha detto che la setta si sta già muovendo Ci stanno cercando La mia famiglia Pericle Perché dirtelo Se non per attirarti in trappola Non importa Dobbiamo andare ad Atene E avvertire Pericle E dobbiamo trovare mia madre Prima di loro Allora Raggiungiamo l'Apnice Se è Pericle che cerchiamo Lo troveremo lì Andiamo Vediamo quanto è distante Intanto Devo selezionare la missione Uh mille Ok non è distantissima Potenzia la lancia Andiamo andiamo Non è distantissima Facciamo questa cosa E poi chiudiamo La puntata Mi piace quando corrono così Se riesco ad evitare anche i pirati È meglio Eccoci Raggiungi l'Apica Quando sarei pronta Raggiungimi alla Pnicia Da te Uh molto bene All'Apnice No io direi che lo facciamo Nella prossima puntata E Avrò un bel po' di cose da fare Qui ad Attica Accidenti È anche bella grande Quindi sì Mi piace Devo dire che Mi piace Mi piace Perfetto Io direi che ci possiamo fermare qua La storia è diventata Interessantissima Era partita in modo Così Un po' Io direi sconclusionato Ma in senso che Non si capiva bene Come poteva Collegarsi ad Assassin's Creed E invece Il collegamento è Forte Secondo me Almeno secondo me Quindi Ci fermiamo Mettete like Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti